C'è molta gente che ha cercato, sta cercando un padre e in questo momento sto cercando mio nonno, è ancora più complicato. Ci stiamo avvicinando, ecco qua, qua 1905-1906 mio nonno aveva un piccola scuola di pittura, sono stati anni fantastici, io ho scoperto dopo molti anni che era morto che qui non stava da solo, stava con un signore che non era male, che si chiama Modigliani, perché Amedeo Modigliani era venuto a iscriversi all'Accademia Venezia in quegli anni venendo da Livorno e poi è successo qualcosa immagino, credo che si siano detti, l'ho sempre immaginato. Andiamo via, è morta, è finito il classicismo, dobbiamo andare da qualche altra parte. e lui è andato, è andato a Parigi ed è diventata una leggenda dell'arte della storia dell'umanità. Mio nonno è andato avanti qua, si sono diplomati nel 1911 e poi non è più voluto tornare a Venezia a lavorare.